Lo squilibrio del metabolismo minerale in corso di malattia renale ha suscitato un interesse crescente come fattore di rischio per complicanze osse e cardiovascolari. Tra le anomalie che si verificano in questi pazienti vi sono quelle relative alla produzione della vitamina D e la sua insufficienza influenza lo sviluppo di complicanze multiorgano e la progressione del danno renale. Noi ci facciamo spiegare come stanno le cose dal professor Sandro Giannini del Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova che abbiamo incontrato a Gubbio dove si sta svolgendo la terza conferenza internazionale per fare il punto sulle controversie circa l'impiego medico della vitamina D. Quali sono i problemi che deve affrontare il nefropatico per quanto concerne la vitamina D? I problemi che il nefropatico deve affrontare riguardo la vitamina D sono sicuramente importanti poiché il rene è l'organo principale in grado di produrre i metaboliti attivi della vitamina D, il calcitriolo in maniera particolare e con il progredire dell'insufficienza renale vi è un decremento progressivo e molto ampio dei livelli siedici di vitamina D e quindi il paziente si ritrova in condizioni di grave carenza di metaboliti attivi che dà la stura a una serie di conseguenze la più importante delle quali un aumento rilevantissimo del paratormone ma anche poi una serie di altre conseguenze in termini di qualità dell'osso la comparsa di osteomalacia e altre condizioni ancora quindi è un setting particolarmente rilevante in cui la vitamina D ha un ruolo del tutto rilevante. Nei pazienti con insufficienza renale cronica proprio in virtù della ipovitaminosi D è tipico lo sviluppo dell'iperparatiroide secondario e anche di altre conseguenze che contribuiscono alla genesi della cosiddetta osteodistrofia renale che è una condizione caratterizzata da severa fragilità ossea. Certamente in questo ambito i livelli molto aumentati di paratormone, in questo caso parliamo di un iperparatiroidismo secondario con livelli che possono eccedere 200-300 picogrammi per mililitro quindi valori molto alti, questi valori sono associati con la fragilità ossea e quindi il senso di trattare i pazienti con vitamina D è quello di cercare di non normalizzare ma ridurre i livelli di paratormone per poter cercare di avere anche un'influenza positiva in termini di robustezza dello scheletro e quindi magari anche di riduzione del rischio di frattura. Quando può essere utile in questi casi una supplementazione di vitamina D e in quali dosaggi? Da moltissimi anni i pazienti con insufficienza renale cronica vengono trattati soprattutto con metaboliti attivi della vitamina D o analoghi dei metaboliti attivi a dosaggi che sono standardizzati in termini di microgrammi con risultati tuttavia in parte certamente rilevanti, in parte un po' preoccupanti poiché il trattamento con i metaboliti attivi ha indotto effetti benefici ma anche qualche complicazione in termini di malattia dinamica dello scheletro e probabilmente anche di eccesso di problematiche di tipo cardiovascolari quindi in realtà oggi non si può dire che vi sia una linea guida chiara che dica quale metabolita va adoperato e quale sia il dosaggio giusto per il singolo paziente. Quindi la vitamina D non è in forma naturale ma uno dei metaboliti della vitamina D è consigliata? No, in realtà oggi c'è un grandissimo interesse per l'impiego di vitamina D nativa poiché si è visto solo negli ultimi dieci anni che la deficienza riguarda anche il 25 di idrossi vitamina D e non solo l'125 di idrossi vitamina D e in questi ultimissimi anni si è visto che il trattamento con vitamina D con le calciferone in particolare è in grado di ridurre il paratormone che rimane il target principale di questo tipo di terapia ma anche di modificare il marcatore di turno overosseo quindi probabilmente inducendo anche un beneficio in termini di robustezza di qualità dello scheletro quindi anche se in termini concettuali la preferenza dovrebbe andare almeno in alcuni pazienti alle forme attive di vitamina D oggi c'è un grandissimo interesse verso la possibilità di trattare questi pazienti con vitamina D nativa e con successo.